La variante Delta avanza in Campania e la regione si prepara alla quarta ondata. Il tasso di contagio resta stabile al 4,02%. I nuovi positivi però sono 711, quasi 90 in più del giorno precedente. Boom di contagi a Napoli con 173 casi altre due le vittime. Sullo sfondo il caso dei sanitari ribelli, medici e infermieri Novax, forti delle loro idee, non fanno marcia indietro e sono circa in 100 sui 600 individuati dall'Asla Napoli 1 pronti a presentare ricorso per le sospensioni e demanzionamenti attivati. Preoccupa il caso di Ischia, sull'Isola Verde e all'ospedale Rizzoli sono molti ricoverati, sia isolani che non. Tanto a Napoli la campagna vaccinale non si ferma, ma i hub funzioneranno solo per gli open day prima dose. Martedì 17 agosto, alla mostra d'oltremare. Il 19 agosto, con l'impegno di tutti e tre i hub, Stazione Marittima, Faggianeria e Mostra, il 23 agosto alla Faggianeria e alla Stazione Marittima e per finire il 24 agosto alla mostra d'oltremare. Prosegue intanto il tour del centro mobile vaccinale nel Cilento, arrivando a somministrare circa 2.500 dosi.